eh ma non c'è la condivisione però eh no il suo forte attesto non si è sentito non c'è non si sentiva né la tua né quella di da ehm ah io dovevo mettere i punti mentre aggiornando la proprietà di gruppo critico quello era su il menu audio ah no dal party si faceva a parte imbustrazione di chatto locale all'interno dei danni dell'attacco successivo ho una scrivata perfetta a partecipato tanto il drone da un po' da mangiare questa è la sfera un gru messo Ho già messo tutto. Grazie a tutti. 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 Tempio di... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un pezzettino d'oro. Ogni tanto c'ha delle parti scure... Ogni tanto c'ha delle parti scure... che mica si vedete bene. Sì no... No... Senti sottotitolo che non puoi aumentare lo zoom... non puoi mettere lo sfondo... Non è una cosa carina... la metteranno... credo che la metteranno sta roba... più là... Ah... posso creare... un'armatura... tutta... due... due... tre... cinque... c'è... ma posso fare tutta... Cattolente di usare il fiasco... durante lo scatto... aumenta di scattamento... quando scatto è un secondo... aumenta di scattamento... quando scatti è un secondo... aumenta di scattamento... un'altra cosa... fino a 10 volte... fino a 10 volte... fino a 10... ferme... qua... mi entro preso... no... devo riposando... guarda che bello l'abito... oh... ora si... ora è carino... questo è il tempo di Higuain... no Higuain... no... questo c'è mira... mi è toccato? caccia tua... fermo... che dolore... che dolore... alcuni ci hanno degli attacchi... lenti... scendi da là... scendi da là... bravo... ma ascolta... lo sta addomesticato... come arco... diametro... ah... devo provarla... adesso... mi trasformò... il lupo... bookstore... provo devi colppire... no, è fermato su te muovi troppo vabbè, l'opetto l'avevamo fatto è vero una pimmola Grazie. 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 Sto faccio in giallo Sì Dove sono in questa strada? All'albero Ah perché c'è il forziere C'è un pochettino C'è un pochettino Che ne è anche C'è un pochettino Che ne è un pochettino Dopo averlo individuato, non lo so, o bloccato, non lo so, dipende pure come hanno aggiustato le traduzioni, anche molte parole sono un attimino, sapete che alcune parole sono sbagliate, forse quando loro ti percepiscono, c'è che si accorgono di te. Andiamo a un altro quadro. Chi è sta a giocare con l'acqua? Da, proprio là! Se lo mettete qua... Ok, sapete poco? Questo rilascia il veleno quando esplode... Alla, non se vuoi andare su... Vieni fino... Alla, dove sta il cerchetto bianco? Ah! Ma nell'HUD... ... 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